Il suo nome è Augusto. Il suo trono è la storia. Giulio Cesare è stato appena ucciso e subito si scatena una lotta per il potere. Ma sulla scena irrompe il giovanissimo Ottaviano, che Cesare aveva adottato e nominato suo erete. Ottaviano è solo un ragazzo, ma è determinato a vindicare il padre adottivo. A sbarrargli la strada, però, ci sono i protagonisti della politica romana. Il ragazzo non si dà per vinto e raduna intorno a sé un gruppo di giovani altrettanto determinati. Con loro e con altri adepti forma una setta votata al culto di Marte Ultore, il Dio Vendicatore, con gli obiettivi di punire, uno dopo l'altro, tutti coloro che hanno inflitto una pugnalata a Cesare alle Lidi di Marzo. Scardinare l'ordine costituito e rompere il lagone politico e dare la scalata al potere.